Giosada forte, forte come sempre, faccia potente, nome potente, bravura, grinta, bellezza, che piacerà molto a tutte le età del pubblico femminile di X Factor. Penso che sia l'uomo forte di Elio, quello che Elio deve curare di più, e signori, io vi dico che questo Giosada arriverà in finale. Io sono Delimello, massimo esperto di X Factor Italia, ho vinto più di 10.000€ scommettendo sui passaggi di turno e sui vincitori delle passate edizioni, vi invito ad iscrivervi a questo canale cliccando qui sotto il tasto iscriviti, non so se è qui sotto o di qua, comunque qui sotto c'è il tasto iscriviti, iscrivendovi, non vi perderete nemmeno una delle mie analisi che riguarderanno tutto X Factor fino alla volata finale. Vi aspetto sui prossimi cantanti e sulle prossime esibizioni, che comunque troverete qui intorno, e seguitemi anche su Twitter, sono sempre Delimello. Ciao!